Mai bramare lo scontro, tanto le battaglie non ci mancheranno, diciamo. E comunque, se troviamo il comandante, i francesi si arrenderanno, no? Esatto, una strategia molto astuta, ma prima di tutto dovremo abbattere le loro difese, altrimenti resteranno barricati e noi non potremmo avanzare. Ecco il bersaglio, scelta! Tira laggiù come se fosse un birillo. Inizia attaccando le torri. Come dice il colonnello? È mancato! Pronti, capitano? Fuoco! E che mi ha portato! In colpicio! E' un po' incierto! Ok, infarto! Fuoco! Hanno rimborsi in arrivo! Fuoco! Fuoco! Sì, signori! Fuoco! 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 Capitato! Fuoco! Guardate, capitato, non vite l'aria! Fuoco! Andiamo via dal vento! Fuoco! Fuoco! E diamo le ali al vento! Piegate, capitato, e me l'hai! Fuoco! 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 Aspetta la rotta, capitato! Fuoco! 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 Ok, spara! Ho! Ho! Attento, capitano! Faccia leggerà i cardini! E? Chi no! Corraziamo! Non armiotarti! Certamente! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.